Avevano realizzato una vera e propria azione paramilitare assaltando il 4 dicembre del 2016 il cavo dell'Istituto di Vigilanza Sicur Transport di Catanzaro, riuscendo a portare via più di 8 milioni di euro. La polizia, dopo un'articolata indagine del Servizio Centrale Operativo e delle squadre mobili di Catanzaro e Foggia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore capo Nicola Gratteri, ha eseguito un provvedimento di fermo tra la Calabria e la Puglia nei confronti di diverse persone ritenute responsabili della rapina al cavo, nonché del possesso e della detenzione di armi e munizioni da guerra e dei reati di furto e ricettazione dei veicoli utilizzati per la rapina. C'è un furgone con della gente con dei mitra, delle pistole. C'è gente qua con i capucci. C'è gente che scappava con i mitra, le pistole. Quante persone sono? Guardi, sono almeno una decina di persone c'erano. Ai fermati è stata anche contestata l'aggravante del metodo mafioso. La sera della rapina, circa 20 soggetti armati pesantemente avevano bloccato le vie d'accesso della zona industriale di Catanzaro, dove si trova il cavo utilizzando come sbarramento auto, vetture e mezzi pesanti, incendiati per ostacolare le forze di polizia, cospargendo anche le strade di chiodi. Il commando aveva utilizzato inoltre sofisticate apparecchiature per inibire le conversazioni telefoniche e si era impossessato del denaro dopo essere penetrato all'interno del cavo utilizzando un grosso escavatore munito di punta demolitrice per effettuare la spaccata. Secondo le indagini, parte del bottino sarebbe stato distribuito, quale dono in segno di rispetto e deferenza, ai capi delle principali consorterie di Indrangheta, del Cantanzarese e del Crotonese.